Lei è sempre intervenuto sulle questioni di illegalità diffusa nel comune di Rocca Bernarda, ma dobbiamo dire anche in altre realtà. Oggi si avverte questa situazione di grande disagio nel nostro Interland, proprio per i fatti anche di Petilia. Cosa possiamo dire? Come vivono i cittadini queste situazioni? Sicuramente non la vivono bene, perché si è creata una situazione veramente di paura. Sono già due episodi di atti intimidatori che si sono verificati in questi ultimi tempi al nostro sindaco, il dottor Bilotta, al quale ulteriormente esprimiamo la nostra solidarietà. Sicuramente la gente ha molta paura, perché si sono create situazioni, anche come lei diceva, a Petilia, che siamo a sei chilometri di distanza. Poi ancora ulteriormente quest'operazione, Tregarium, che è stata fatta e la gente è anche preoccupata per vedere il prosieguo di questa indagine, perché hanno anche paura di dire come andrà a finire tutte queste storie. Ecco, Rocca Bernarda poi in particolare non vive bene questa situazione. Ripeto, al sindaco ultimamente hanno spostato un po' il tiro, oltre le mie denunce che sono state fatte, come lei saprà, e il sindaco adesso è in una situazione, l'amministrazione è tutta in una situazione un pochino di disagio, perché effettivamente sono fatti gravi, al quale noi ci dissociamo da queste situazioni, e invitiamo le autorità competenti di, ulteriormente, fare uno sforzo per venire a capo di queste situazioni. Il prefetto di Crotone è già venuto a Rocca Bernarda, ha voluto dare un segnale ben preciso della presenza dello Stato. Oggi più che mai c'è necessità dei tavoli, secondo lei, per il controllo del territorio, e quindi che ci sia anche un intervento più forte da parte dello Stato? Ma sicuramente il signor prefetto di Crotone ha attenzionato molto Rocca Bernarda, per questo lo ringraziamo. E a questo punto penso che sarebbe anche opportuno un ulteriore sforzo per il nostro territorio, anche, come giustamente diceva lei, un incontro con i cittadini di Rocca, fare dei tavoli veramente per discutere di tutta questa situazione, e dare maggiore coraggio ai cittadini in modo che debbono parlare. I cittadini di Rocca devono uscire allo scoperto e dire effettivamente come stanno le cose e denunciare all'autorità tutti questi episodi che ormai c'è una paura tremenda proprio nel nostro paese. Comunque i cittadini di Rocca Bernarda hanno partecipato alla fiaccolata, all'iniziativa in difesa del sindaco Bilotta. Ma sicuramente siamo stati lì tutti, c'è stato un sit-in in piazza, c'era molta gente, ahimè però purtroppo una parte mancava, ecco questo io l'ho notato e l'ho denunciato, ma questi poi sono episodi che devono riguardare tutta la gente per bene, perché qui non si ha colore politico, qui stanno succedendo delle cose gravissime che stanno veramente buttando uno sconviglio veramente forte nella nostra comunità e qualcosa deve succedere, perciò invito ancora ulteriormente anche l'amministrazione di non chiudersi, perché questi episodi riguardano tutti noi e allora bisogna chiedere aiuto a tutti, tutti insieme a affrontare queste situazioni.